bitcoin cosa fare ora è di nuovo il momento della coin terza analisi week 45 benvenuta benvenuta ciao aberto ciao grande ivan bentornato tra noi ciao a casa te che ci segui buon sabato meraviglioso weekend verso la luna a tu che ci stai seguendo a te che ci stai seguendo let's go let's go let's go bene quindi entriamo nel video della puntata oggi faremo andiamo a vedere innanzitutto che cosa è accaduto in questi giornali bitcoin esattamente quello che avevamo detto ormai è un po che ci ripetiamo ma è veramente così c'è un motivo perché riusciamo a intravedere prevedere queste cose non perché siamo dei maghi perché abbiamo studiato abbiamo fatto molta esperienza commesso errori e adesso stiamo appunto navigando grazie anche quello che abbiamo imparato dagli eroi del passato in più faremo una attenta analisi per il tempo che abbiamo per non far durare questo video più lungo di mezz'ora quello che vogliamo fare attenta analisi alle altcoin l'avevo promesso nell'ultima puntata che l'avremo vista assieme a ivan oggi avremo analizzato le altcoin perché ormai è una settimana che dico che le altcoin sono pronte per ripartire in effetti sono già ripartite alcune di queste e alcune erano erano già in maniera silente partite alcuni giorni addirittura un paio di settimane fa mentre altre sono partite adesso con il pump del bitcoin e di che è arrivato subito dopo quindi rimani con noi fino alla fine perché è una puntata importantissima succosissima e adesso passiamo alla sponsorizzazione della puntata che questa volta con grande sorpresa ti diciamo la puntata di palermo di bitcoin di oggi è sponsorizzata da questi due pazzi che vedi in questo momento stai cercando di capirci un po di più sul bitcoin la blockchain e il trading sulle criptovalute ciao siamo alberto malini il sottoscritto Ivana Eroldi di Crypto Learners benvenuto e benvenuta sul nostro canale youtube noi siamo i creatori della community Crypto Learners e siamo appassionati studiosi del mondo bitcoin blockchain e crypto nonché traders da ormai diversi anni e aggiungo non ultimo orgogliosi e padri di famiglia ogni settimana troverai sempre nuovi video sul nostro canale youtube take your knowledge to another level porta la tua conoscenza a un altro livello a un livello superiore crediamo fermamente che diffondere la conoscenza e la nostra esperienza su questo magnifico mondo sia di vitale importanza per il tuo futuro e per la tua indipendenza economica quindi se ti attrae quello di cui stiamo parlando assicurati di schiacciare il bottone iscriviti al canale per non perderti nessuno dei nuovi contenuti perché siamo sicuri che ne sarai entusiasta ti aspettiamo ciao la connessione è perfetta take your knowledge to another level il fatto di saper leggere guardare grafici conoscere comportamenti leggere le notizie saperli interpretare viene proprio dalla dalla conoscenza dove abbiamo poi creato lo slogan take your knowledge to another level quindi siamo siamo fermamente convinti che anche tu che ci stai seguendo hai un'opportunità in questo momento grandissima che quella di approfittare di tutto quello che succederà da oggi in avanti quindi nei prossimi anni non solamente nella prossima burra non limitarti a vedere le cose a domani vai lungo 10 15 anni e quindi take your knowledge to another level è il momento giusto qui sotto trovi una lezione gratuita è un video dove analizziamo secondo noi dov'è in questo momento il danaro come si sta muovendo come sta cambiando e perché è proprio il momento giusto per conoscere blick bitcoin block chain e al coin quindi clicca qua sotto fallo subito ti guardi un video bellissimo e ci sarà anche una bella offerta per te proprio per avvicinarti a questo mondo su attraverso un corso che abbiamo preparato esatto proprio per i nuovi che si affacciano si porta non commettere gli errori che abbiamo commesso noi e per risparmiare un sacco di tempo importantissimo il miglior corso che puoi trovare sul bitcoin nel web in questo momento quindi clicca qua sotto lezione gratuita alla fine mega offerta e entra a far parte di crypto learners nella community con questo corso che ti permetterà di cavalcare questa bull run quindi andiamo direttamente ai grafici attenzione tutto quello che vedrai che sentirei dire da noi oggi e in qualsiasi altra puntata non sono assolutamente consigli per gli acquisti o meglio ancora consigli finanziari esatto consigli finanziari ma sono condivisione della nostra esperienza delle nostre idee e delle idee di altri colleghi della community bitcoin e ovviamente di notizie quindi andiamo a vedere il anzi ti metto in condivisione ovviamente prima perché sennò tu non mi vedi Ivan perfetto ok solito sguardo d'insieme ormai ci conosci guardiamo sempre il bitcoin dall'alto quindi settimanale time frame settimanale ma cosa che stiamo facendo anche nelle ultime puntate barra settimane fondamentale soprattutto in questo momento anche occhiata del frame mensile dove chiusura del mese scorso è stata leggermente di pochi dollari al di sotto della chiusura record storica del bitcoin in questo momento siamo ampiamente al di sopra della chiusura mensile storica più alta che ha mai avuto il bitcoin quella del dicembre 2017 ovviamente ricordiamo l'all time high è ancora leggermente lontano ma non più di tanto perché l'all time high al prezzo attuale del bitcoin dista solamente 30 meno meno 22 per cento 23 per cento manca il 23 per cento di guadagno bravissimo no sì sì solo questa settimana lo vediamo ha fatto gli ultimi il bitcoin questo è guine mantli bravo eh sì ma è iniziato adesso è la prima prima settimana del mese solo in questi primi giorni del mese di novembre il bitcoin ha fatto il 23 per cento quindi poi riguardati comunque tranquillamente le puntate precedenti avevamo parlato del target di 13 mili 800 di cosa avrebbe fatto tutte queste cose le abbiamo annunciate come ha detto ivan non perché siamo dei maghi ma perché analizziamo dei dati sulla base di esperienza e di conoscenza che abbiamo acquisito grazie ad aver fatto aver studiato bene cosa accadrà adesso al bitcoin siamo tutti super excited perché non si vedeva da tempo un pump così così importante con un volume interessante volume in crescita non solo nei derivati ma anche nello spot quindi importante volume in crescita che conferma che conferma poi le rotture bravo bravissimo volume interesse è molto importante nelle conferme delle rotture una cosa che avevamo detto nei video precedenti target che era 13 mila otto barra 14 mila con ritracciamento che mi sarei aspettato ora me lo aspetto un po meno ma in realtà me lo posso aspettare adesso perché siamo andati molto più in alto ma nel momento in cui il prezzo ha rotto la linea la trend line che faceva da tetto quindi resistenza nel canale ascensionale in cui era il bitcoin e qui il volume lo dimostra quindi rottura con volume nuovo target direzione 16 mila 16 mila 16 mila 2 ci è arrivato vicinissimo ha toccato i 15 mila e 968 quindi quasi 15 mila quasi 16 mila perfetto e minance 15 9 20 15 9 30 sì in questo preciso momento il prezzo del bitcoin sta calando sta stornando notevolmente proprio in questo momento potrebbe essere l'inizio di uno storno oppure no perché qui lo vediamo meglio nel nel grafico hourly quindi di un'ora in realtà il prezzo del bitcoin sta creando un canale solo lo definiamo bene un canale discendente ecco togliamo quei due picchi lì siamo un canale discendenti che è una tipica figura bullish la si può anche definire una bull flag perché qui abbiamo un trend forte in impennata parabolico il prezzo sta assestando in questo momento dicevo il prezzo sta stornando notevolmente ma finché non supera al ribasso i 15 mila sì i 15 mila dollari a meno che non lo faccia nel tra domani e dopo domani quindi però siamo sui 15 mila 15 mila dollari siamo all'interno di questo canale ed è una normale aiutami van un normale riadattamento normale ritracciamento del preno volume nel weekend ricordiamo albi che se va al di sotto nel weekend e lascia un gap al di sopra di se stesso il prezzo del bitcoin è super interessante perché spesso i gap vengono chiusi e vengono chiusi prima possibile quindi potrebbe essere che ritraccia un pelino nel weekend ma come rientrano le mani forti i volumi giganti che abbiamo visto in questi ultimi giorni vroom se lo va a chiudere e ritorna dove era prima super interessante super interessante quindi a parte questo ritracciamento fisiologico che fa solamente bene e difatti è chiamato solo bene bullish flag perché serve proprio al prezzo a riprendere forza per ritornare su cosa può accadere cosa può accadere e qui torniamo invece sul quattro ore anzi guardiamo un attimo sul daily sul daily siamo in una fase ne parlavamo prima di price discovery di solito si parla di price discovery cioè di scoperta di di prezzo quando si supera l'all time high eccoci in realtà l'all time high il massimo storico è stato in prossimità dei 20.000 ma dai 20.000 a il livello di 14.000 circa 13.800 il massimo che aveva raggiunto l'anno scorso e che ha ampiamente superato in questi giorni qua delle vere e proprie resistenze non ce ne sono perché il prezzo ci è rimasto per pochissimo tempo rispetto a quattro settimane poco quindi i volumi presenti in quei momenti di prezzo sono veramente ridicoli ecco perché si parla di price discovery in questa situazione quindi come fare per capire quali possono essere i nuovi target i nuovi livelli se di ritracciamento non parliamo ma qui si aprono due scenari un possibile ritracciamento già da adesso perché comunque il prezzo ha toccato ritracciamento fibonacci ha quasi toccato il tracciamento fibonacci di 0 7 8 edizione americana ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti vince biden e trump accetta questa sconfitta che abbiamo visto non la sta accettando sta chiedendo la forte suprema di rivedere di rivedere perché è accusa di brogli elettorali eccetera questo causerà ovviamente forte incertezza e attesa quindi periodo di penteo tempo da parte dei mercati ecco che potrebbe portare già a uno storno dai prossimi giorni del prezzo del bitcoin se invece la situazione un pochettino più stabile per quel che riguarda elezioni americane possiamo dire che il prezzo del bitcoin può ancora avere margine di crescita già a breve nelle prossime settimane fino ad arrivare magari dopo un breve arresto ma in realtà ce l'ha già dopo aver sfiorato questo livello di fibonacci di ritracciamento ma dopo c'è solo l'all time high quindi ai 18 barra 20.000 non c'è nessuno in mezzo che possa fermare questo prezzo ecco perché è uno scenario a cui non avevamo assolutamente pensato nei giorni scorsi settimane scorse oggi si sta aprendo che quello di arrivare già nelle prossime prossima settimana prossime due settimane agli all time high anche in funzione del fatto che il prezzo ha sfondato ampiamente la linea gold e pocket 0.6 18 del ritracciamento fibonacci se così fosse può capitare di tutto che il prezzo continua a superare l'all time high e procede o arrivata l'all time high ci possa essere un ritracciamento fino al precedente livello di fibonacci e andiamo a vedere quale potrebbe essere se il prezzo mi dovesse arrivare nelle prossime settimane ai 19 20 mila un ritracciamento potrebbe essere questo quindi un meno di 17 per cento o sotto 61 31 meglio ancora andiamo a vedere su weekly e inseriamo il ragionamento che facciamo questo è un segreto che vi svegliamo ma siamo qui apposta per non lasciare nulla indietro che è l'utilizzo sul grafico weekly della 21 moving average adesso lasciamo solo quella la 21 exponential moving average media mobile esponenziale allora nella precedente bull run quella 2015 barra 2017 ogni volta che il prezzo ha toccato magari anche andando sotto però la chiusura settimanale è sempre stata al di sopra sempre in ogni ritracciamento della 21 moving average ogni volta che il prezzo va a rompere o si appoggia sulla 21 momento eccezionale per rientrare fare buy the dip quindi fare dollar cost average aggiungere sui propri long ovvio no consigli finanziari ma questo è come operiamo noi questo è un tra virgolette segreto ma è una cosa che utilizzeremo tantissimo da qui ai prossimi mesi per andare a intensificare l'acquisto di bitcoin o entrare long una volta dopo aver preso bene il livello è adesso albi la 21 allora adesso se dovesse tornare adesso il bitcoin è 11.300 se invece sarebbe un bel 30 per cento no si esatto dove adesso infatti guardiamoci subito il prezzo dal massimo che ha toccato al 28 per cento nel famoso range del 30 che è lo storno tipico si può stare se il prezzo dovesse arrivare al un po più in alto quindi come dicevamo a questi 20.000 quindi all'all time i la exponential moving average se ci arriva in una settimana cresce in questo momento sta crescendo di circa 500 dollari alla settimana la exponential moving average 2-3 settimane mettiamo che ci arrivi in 2-3 settimane quindi da 11.300 11.800 12.300 in 2 settimane 12.800 12.800 in 3 settimane andiamo a vedere se tocchiamo in 3 settimane gli all time i lo storno sono tutte ipotesi è ovvio queste non sono assolutamente certezze però ti stiamo svelando man mano che le cose procedono quali sono gli scenari potenziali e sulla base degli scenari come adattare le proprie valutazioni bisogna essere sempre pronti ai due scenari mai a uno solo specialmente quando va così in verticale sempre prestare molta attenzione che poi può continuare quando i numeri coincidono l'abbiamo già visto quando i numeri coincidono ecco che si intensificano le idee perché se in 3 settimane mi arriva ai massimi il prezzo del bitcoin quindi 20.000 uno storno del 30% sarebbe esattamente in prossimità della 21 moving exponential moving average che sarebbe arrivata intorno ai 13.800 e guarda caso corrisponde anche con una resistenza che adesso è diventato supporto molto importante 13.800 che poi era il target che ci eravamo prefissati il mese scorso per questo pump sì un ritest di questo high che aveva fatto l'anno scorso a maggio giugno potrebbe farli che è proprio 13.800 14 quindi ritestarlo caricare come spesso è fatto dipende quando sì bravo quello che ovviamente non si può mai prevedere neanche in termini di ipotesi è il tempo quello è il tempo nessuno lo può fare bitcoin questo è lo scenario quindi cosa ci aspetta ora ethereum diamo una cena a ethereum perché è l'anticamera di quello che vogliamo vedere dopo tutto il concetto e l'elaborazione che vogliamo fare sulle altcoin allora ethereum abbiamo visto è partita dopo il bitcoin quindi in questo momento ethereum segue e bitcoin guida entriamo su ethereum in realtà ha seguito molto bene perché ha fatto un pump proprio negli ultimi giorni spaventoso e anche qua l'avevamo detto l'avevamo detto perché che era all'interno il prezzo lo vediamo meglio sul 4 ore il prezzo era all'interno di un canale discendente fammi togliere la moving average che adesso non ci serve il prezzo all'interno di un canale discendente aveva rotto aveva fatto un retouch stava già risalendo dal retouch e per di più si stava formando questo wedge pattern quindi questo triangolo che è tipicamente una bullish flag alla rotura di questo bullish flag è esploso tutto quando il prezzo di ethereum non aveva ancora rotto questa bullish flag bitcoin era già schizzato in alto di fatto io ho aperto un long quando il prezzo il prezzo era ancora qui all'interno e come anche altri colleghi hanno detto easy money perché ethereum fermo bitcoin che schizza formazione ethereum comunque bullish perché stava facendo alti sempre più alti e minimi sempre più alti questo era veramente una sorta di rigore autogol rigore se vogliamo cioè era rigore rigore più bello rigore autogol no rigore e difatti sono uscito dal bitcoin che aveva già performato e sono entrato qua poi ve lo faremo anche vedere magari più avanti questo trade perché conto di te non l'ho aperto per un po' di tempo e quindi diventerà diventerà un caso studio target mille target mille se riesco a resistere a non chiuderlo prima target mille e quindi anche qua era scritto le cose ovvio sono probabilistiche non sono certezze però operando in termini di money management su quello che si vede si possono cogliere questo punto quanto è il profit adesso su sto trade Albi? dalla rottura fino alla cima? mi sembra giù 200% già adesso però vabbè se non lo faccio vedere non ce l'ho preparato pronto qua lo faremo vedere comunque nelle prossime puntate sì se no non può dire va bene parli ma non lo fai vedere quindi chi ci dice che è vero farò vedere anche la data di apertura e il prezzo di apertura esatto e bene passiamo alle altcoin passiamo alle altcoin per passare alle altcoin andiamo a vedere prima il market cap e la bitcoin dominance allora bitcoin dominance mettiamo direttamente sul daily è andata sopra questa linea che avevamo tracciato che avevi tracciato la volta scorsa esatto siamo nel daily è andata sopra in un giorno e è tornata praticamente all'interno di questo range esatto esatto praticamente qui c'è stato schizzo del bitcoin ma ethereum e alt sono rimaste ferme qui hanno iniziato a correre per quanto bitcoin continuasse a salire hanno iniziato a correre ethereum e altcoin quindi nella dominance siamo ritornati sotto questa resistenza chiusura giornaliera è molto importante chiude all'interno chiama verso i 60 albi sì esatto quindi prossimo step è verso i 60 cosa vuol dire? vuol dire che c'è margine per far correre le altcoin ecco perché ne volevamo parlare nessuno ne ha parlato in questi giorni nei giorni precedenti settimane precedenti ora è il momento di non posso dire di entrare nelle altcoin perché non posso dare consigli finanziari valutarle noi l'abbiamo già fatto lo stiamo facendo perché è importante andare a cercare l'alternanza di flussi tra bitcoin e ethereum collegato alle altcoin spesso e volentieri quando parte ethereum tutte le altcoin legate alla defi che girano su ethereum più altre blockchain partono sono state ferme negli ultimi due mesi barra alcune di queste hanno avuto storni anche dell'80% hanno toccato il bottom alcune alcune no e li andiamo a vedere una a una quindi è il momento di riconsiderarle perché perché un altcoin o ethereum può assolutamente outperformare quindi performare molto di più in questa bull run del bitcoin per quanto puoi essere bitcoin maximalista io adoro bitcoin per me è il numero uno ha una funzione ethereum ne ha un'altra non posso tenere il parocchi e non vedere o parlare di ethereum o di altri altcoin legati poi da qui a questo ne abbiamo già parlato da qui ai prossimi anni il mio obiettivo è quello di aumentare il mio numero di bitcoin e per farlo mi posso proprio avvalere degli altcoin giusto? infatti quello che vediamo giusto oggi tra le più chiamiamole anziane altcoin è proprio il rapporto con il bitcoin importante in questa fase ne vediamo alcune legate al defy che sono con dollaro in questo caso guardiamo ethereum litecoin eos e ripple e monero con il bitcoin che hanno raggiunto dei livelli sicuramente interessanti questa è la market cap questa è la total market cap solo delle altcoin quindi non è più la bitcoin dominance ma è la total market cap è una maniera diversa di vedere le altcoin ne avevamo già accennato mi sembra alcune settimane fa ve l'avevamo detto anche qua c'era stata la rottura di questa resistenza importante dei 120 miliardi giusto? 120 milioni sì 120 miliardi 120 miliardi di dollari rotta verso l'alto e difatti le altcoin avevano raggiunto il massimo a fine agosto c'è stata una correzione ma la correzione non è andata sotto questa resistenza che adesso è diventato supporto anzi si sono appoggiate quindi il solito retouch che è tipico soprattutto del bitcoin e degli altcoin e poi è ripartito è ripartito ha stornato ancora nelle settimane precedenti e adesso sta pompando come i pazzi difatti lo vediamo qua e quello che noi ci aspettiamo è raggiungere quest'altra nuova resistenza quindi tutto va visto in maniera opposta rispetto al grafico che abbiamo visto prima ma sono due grafici che ci dicono in questo momento la stessa cosa cioè è il momento delle altcoin che non vuol dire che il bitcoin non continua a salire ma come diciamo sempre che le altcoin ed ethereum possono salire molto più velocemente che non i bitcoin quindi andiamo ai grafici che hai preparato tu sì allora partiamo da ethereum con bitcoin come potete vedere qua abbiamo tracciato questo box che è una resistenza supporto che va poi dal lontano 2018 anche prima che è esattamente fra i zero qui ragioniamo in btc quindi cominciamo a trovare degli zero iniziamo a ragionare con 0,025 e poi ci sono altri numeri bitcoin e come vedete è andato quasi perfettamente quella sotto che io uso sempre è la 50 moving average e proprio quasi ha toccato la 50 moving average questo l'ha fatto all'inizio della scorsa settimana questo è un grafico weekly e negli ultimi giorni sta riprendendo forza quindi assolutamente ethereum potrebbe aver toccato confronto bitcoin il suo bottom e da qua essere pronto a ripartire quello che è raggiunto per ben due volte nel 2019 e che teneremo terremo sicuramente sotto controllo è questo livello di 0,40 che è lì segnato con la linea gialla questo livello di 0,40 è un livello importante anche questo va fino al 2017 si ritorna indietro fino al 2017 ha fatto più volte da supporto e due volte come lo potete vedere nel 2019 e all'inizio di ottobre fine fine settembre ha fatto poi da capi da da resistenza quindi potrebbe ritornare lì sfondarlo o riappoggiarsi un'altra volta litecoin un po' nella stessa situazione litecoin invece è andato addirittura sotto ce l'hai no albi è andato addirittura sotto questa resistenza supporto che anche qui non abbiamo voluto tracciare con una singola linea ma abbiamo voluto mettere un box perché alcune volte c'è andato più sopra alcune volte più sotto ragioniamo sempre contro BTC quindi qua siamo a 0.00 44 45 fino a 00 43 e in questo momento è al di sotto della 50 moving average e di questo box viola che abbiamo tracciato dovesse in qualsiasi momento non è tanto bullish in questo momento litecoin contro no litecoin in questo momento non è tanto bullish ma lo vediamo anche con EOS e lo vediamo con XRP sono ad un punto dove potrebbero come abbiamo detto noi reinvertire e da qua partire guardate poi EOS è addirittura in una fase di capitulation sta quasi andando giù in verticale la cosa che si nota di più su questo grafico settimanale sono le candele verdi in acquisto a livello di volume e le candele rosse quindi chi sta vendendo in questo momento è in continua diminuzione o perlomeno non ha non sono così tante le persone che stanno vendendo come le persone che quando trovano un target o un obiettivo se lo vedi qua sopra 0,31 sono entrati una due tre volte ad acquistare in maniera importante quindi quello poteva essere un livello interessante non l'ha retto è andato addirittura sotto adesso c'è un altro livello che viene dal 2017 albi che sarebbe 0,0015 quindi 4,0 sarebbe 1500 tondi tondi satoshi ok quindi possibile anche qua un'inversione per quanto riguarda EOS XRP è quello che XRP è quello che in questo momento è un po' più difficile da analizzare però l'abbiamo visto più di una volta che nel momento in cui tocca questo anche qui questa linea proviene dal 2017 questa linea verde e l'ha toccata esattamente qualche giorno fa quindi vedere è importante come ha detto Alberto non precipitarsi ed entrare all'interno delle coin in questo momento ma tenerle sott'occhio potete tracciarvi anche voi queste linee e vedere se rimbalza quindi se questa linea di supporto fa e attua come supporto potrebbe essere un momento interessante per con piccole operazioni entrare in XRP poi ne abbiamo ancora una che sembrava in termini di money management diversificazione ricordiamo magari mettiamo il link al video come investirei 1000 euro o 1000 dollari in criptovalute quindi per capire il peso che si può dare ad altcoin rispetto a bitcoin e l'ultima che abbiamo voluto analizzare abbiamo voluto prendere vecchia altcoin è proprio monero che qualche mese fa aveva dato segni di aveva raggiunto questo supporto che era 0,0069 6.900 aveva tutta l'idea di andare verso l'alto e quindi recuperare velocemente infatti è passata da 80 con fronto a dollaro a 130 in un breve periodo questo perché ve l'abbiamo voluta prendere per farvi capire che non è sempre sicuro quindi andiamo sempre piano nel momento in cui vediamo che rimbalza da un supporto e analizziamolo sicuramente nel tempo in questo momento è andato fino a 0,012 è tornato a ritestare la 50 moving average molto vicino a quella supporto verde che abbiamo tracciato vediamo da qui potrebbe ripartire andare verso l'alto insieme ad altri al coin o potrebbe addirittura andare più sotto perché la caduta è abbastanza verticale quindi questo per prendervi le vecchie al coin e analizzarlo un po' con voi divertitevi con trading view tracciatevi voi le vostre linee guardate i grafici analizzatele prima di entrare quindi sarebbe un momento interessante questo sì quindi tenetelo in considerazione albi tu ne avevi preparate altre quelle più legate alla DeFi quindi andiamola a vedere teniamo sempre il grafico daily un sguardo proprio velocissimo prima della DeFi passiamo a Cardano ADA buttiamo un occhio così veloce allora qui un po' ripetuto la stessa cosa questo dove si appoggia adesso il prezzo è comunque un importante livello l'ha sfondato è tornato su in questo momento qua ci sta navegando sopra è da tenere d'occhio non direi entrare adesso in Cardano è da studiare da tenere d'occhio Algorand Algorand è ha fatto uno storno notevole in queste ultime settimane accennavo prima ad alcuni altcoin che hanno tornato fino all'80% Algorand è proprio una di queste 70,72% questo vuol dire che non possono andare ancora più giù si possono andare ancora più giù però spesso e volentieri gli altcoin quando fanno soprattutto una fase molto importante di di impulso ad esempio ha fatto ha fatto un 288% 300 quasi 300% da giù da luglio fino ad agosto ok quindi ci sta uno storno dell'80% e solitamente gli altcoin arrivano fino a una linea importante che era il precedente massimo prima che iniziasse il pumping e in effetti il precedente massimo era 0,25% l'ha sfondato in questi giorni ci si è appoggiato e sta tornando su se tengono ethereum e bitcoin come abbiamo detto all'inizio sicuramente Algorand può essere molto interessante e può farci vedere che abbia toccato il fondo e da qui ripartire atom anche questa non è prettamente legata al si è legata alle defy ma è una blockchain alternativa stessa identica situazione pump incredibile in realtà prendiamo questo da luglio fino ad agosto adesso è sui livelli del precedente massimo prima del pump questa è una regola importantissima soprattutto per queste altcoin legate alle defy band che è alternativa di oracle un po' più piccolino rispetto a link esattamente la stessa cosa ok qui addirittura ci poteva essere margine di arrivare a tornare fino a 2 fino a questo livello qua si è fermato qui va bene si è ripartito allora c'è già un segnale di ripartenza da questo livello però è da tenere d'occhio non si può dire ok entriamo subito poi è vero che se guardo il lungo periodo band ha dei grandi fondamentali posso tranquillamente entrare e tenermela da qui al prossimo anno sempre no consigli finanziari link mi è sfuggita o ce l'ho più giù ce l'ho qua vediamo subito link stessa identica cosa link addirittura è partita già alcune settimane fa link ha toccato il bottom il 23 settembre e stesso ragionamento di prima il livello precedente oltre ai mai prima che partisse il bump vediamo quali sono ha fatto il 244% in solo prima scusami 34 giorni 27 luglio si in meno di un mese ha fatto un risultato pazzesco ha stornato il 24 settembre fino a scendere al di sotto del precedente all time high prima del pump e da qui guarda caso minimi sempre più alti e massimi sempre più alti questo è un perfetto esempio di ripartenza quindi io su link addirittura già andrei tra virgolette tranquillo rispetto alle altre del coin vediamo engine questo è un coin legato al gaming un pochettino lo stesso concetto anche qua se guardiamo kava un'altra un'altra coin importantissima per quello che riguarda la defi stessa identica cosa questi sono tutti i pattern che si vanno a riconfermare kusama kusama è un progetto che lavora su blockchain polkadot questa mi piace qui addirittura esatto perché c'è una forte narrativa anche se non se ne sta parlando in questi giorni perché si parla più di bitcoin c'è una forte narrativa su polkadot e tanti progetti stanno partendo su polkadot kusama è uno dei più interessanti guardandolo così è quello che più mi chiama l'attenzione assolutamente così a colpo d'occhio ovvio sempre no consigli finanziari ricordatevelo però su kusama io già ci ho messo una posizione e me la tengo da qui al prossimo anno kiber network vediamo se ne è parlato tanto da inizio anno è quasi perso un 50% forse di più forse anche di più però stessa identico pattern identico 70% è comunque ripartito grazie al pump di questi giorni di ethereum non è detto che poi da qui non storni e ancora faccia del sideways però diciamo è già in una buona posizione per il motivo di cui abbiamo appena parlato ren un'altra defi coin molto importante addirittura 24 settembre un po' come link ha toccato il bottom che era il precedente high quindi è in un'ottima posizione anche ren rispetto ad altri vediamo vchain e poi chiudiamo perché se no siamo andati veramente lunghissima di questa volta stesso identico pattern quindi questo qui ha toccato il addirittura è andata un po' più sotto anche però è ripartita in questi giorni avendo toccato il precedente oltre mai prima del pump la maggior parte delle altcoin soprattutto quelle che hanno dei fondamentali dietro guardiamo anche anchor questa tenetevela ad occhio perché soprattutto con con ethereum 2.0 è un coin che diventerà sempre più importante qua ha fatto la stessa cosa che non qual'era quella che era già ripartita abbiamo detto link link usama 24 settembre ha toccato il bottom che corrisponde circa al all time high che aveva prima del precedente inizio di bull run questa addirittura aveva avuto una comportata diversa una bull run più simile a quella del bitcoin e del ethereum ma ha fatto cose pazzesche ancora cioè ha fatto un 2800 per cento in marzo marzo agosto quindi aprile maggio giugno luglio in cinque mesi ha fatto 2800 ecco quello che abbiamo detto prima perché in questa bull run alcune non tutte alcune altcoin performeranno molto di più che non bitcoin o deteering non è detto che ancora faccia questo perché magari l'ha già fatto e non lo fa più secondo me ci sono buone possibilità perché continui a rifarlo e vediamo anche da quello che ha fatto negli ultimi mesi il bottom l'ha toccato il 24 settembre ed è già ripartita quindi ripeto no consigli finanziari ma tutte queste altcoin che abbiamo visto adesso tenetele d'occhio perché potenzialmente sono già ripartite ok grande 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 puntata un po' più lunga di quello che di solito sono le puntate del sabato però sicuramente se la riguardiamo fra un anno questa puntata sarà una delle puntate più interessanti fate un po' come ha fatto Alberto come ho fatto io in trading view mettetevi queste altcoin o quelle che vi piacciono a voi tenetele sotto controllo giocate con i grafici fate delle cose prima di schiacciare il bottone compre e vendi perché assolutamente vi aiuta a capire un po' meglio come si muovono Albi poi ci ritorneremo ci ritorneremo con altre altcoin in particolare le andremo a vedere da qui la settimana prossima per capire se sono già partite ma ripeto molto è legato comunque a quello che accadrà in questi giorni elezioni americane bitcoin ed ethereum quindi dai grazie a te grazie ricordati di condividere il nostro canale il nostro canale è super pump ha fatto un bel 10% negli ultimi 4-5 giorni let's go let's go let's go condividi i nostri video fai conoscere il nostro canale agli amici lasciaci un bel like i commenti sono importantissimi stanno aumentando Alberto e io siamo contentissimi di quello che sta accadendo e continueremo grazie a chi ci segue come te a dare questi contenuti e a fare questo tipo di interventi e parliamo di bitcoin grazie mille Albi ci vediamo martedì buon weekend ciao Ivan un abbraccio buon weekend a te a casa buon weekend a tutti ciao